L'ipotesi di reato formulata dal PM Rocco Alfano è abuso d'ufficio. Ieri la notifica di proroga delle indagini al sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e ai componenti della giunta comunale di Salerno in carica nel 2010. L'inchiesta riguarda le delibere di giunta approvate il 15 ottobre e il 5 novembre di quell'anno. Con la prima si dava il via alle procedure per il cambio di destinazione con un atto di indirizzo. Con la seconda invece veniva approvata la proposta di variante che il 29 dicembre avrebbe ricevuto il via libera definitivo dal Consiglio Comunale. La variante modificava parzialmente la destinazione del suolo di Cupasiglia individuata proprio dal sindaco per la realizzazione del termo valorizzatore di Salerno. Con la variante una parte di quell'area veniva destinata alle attività produttive. Chi ricorda quei giorni non potrà dimenticare l'estenuante braccio di ferro tra comune e provincia proprio sulla realizzazione dell'inceneritore del capoluogo. De Luca per quasi tre anni commissario per la realizzazione dell'opera perse i suoi poteri a seguito anche della legge regionale che conferiva mandato alle province. Infatti proprio nei giorni delle due delibere finite nel mirino della magistratura la provincia di Salerno emise il bando di gara per il termo valorizzatore e a seguito di quelle due delibere la provincia ha decise di ricorrere al tar e presentare un esposto alla magistratura. Ieri la decisione di proroga delle indagini da parte della procura salernitana con l'emissione degli avvisi di garanzia. Al comune la notifica è stata commentata con apparente serenità. L'assessore calabrese sottolinea che si è agito rispettando in pieno le regole e non è mancata qualche stoccata al vetriolo all'amministrazione provinciale. Denunce presentate da chi fa solo vacuità ha dichiarato oggi a qualche quotidiano l'assessore comunale all'ambiente. Quando i toni sembravano essere più distesi tra comune e provincia con l'inchiesta della magistratura si riaccende la polemica e non tarderà ad arrivare la replica da parte di qualche esponente dell'ente di Palazzo Sant'Agostino.